eccoci qua signori buongiorno buongiorno buon mercoledì mercoledì 3 3 novembre è ormai siamo natale siamo natale spettacolo spettacolo allora allora signori stamattina e stamattina abbiamo fatto una bella diretta una bella diretta della nostra radio e quindi è stata proprio bella siamo stati insieme un'oretta abbiamo parlato di tante cose è molto molto bello ok c'erano persone anche nuove che si erano collegate per la prima volta ok fantastico fantastico questo è proprio l'obiettivo della radio e quindi invito le persone a lunedì mattina chi avesse tempo chi vuole ok da chi ha delle domande qualsiasi cosa da chiedere lunedì mattina tutte le mattine dalle dalle 9 30 alle 10 poi si finisce sempre alle 10 e mezza 9 e mezza 10 e mezza c'è il collegamento della radio bene 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 poi stasera stasera c'è ida quindi chi fosse interessato c'è presentazione di ida con la formazione tutto su ida quindi dopo metterò sotto quattro verrete il link il referral link per poter essere presenti e di invitare eventualmente delle persone poi cripto per tutti signori cripto per tutti stiamo ormai facendo passi da gigante passi da gigante ieri pensate che ieri sono stati creati dei referral link di alcune persone che mi hanno richiesto c'è la possibilità di avere i personal link referral link personalizzati quindi degli eventi quindi esempio lunedì abbiamo l'evento a vicenza dal vivo quindi chi vuole può avere il proprio referral link e farlo girare in pratica sui 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 propri canali sui social così ognuno di noi ha proprio delle pagine sui social perfetto se tu hai il tuo referral link lo fai girare non vorrei mai che qualcuno guarda questo 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 evento gli piace e vuole partecipare solo dal fatto che è arrivato grazie al tuo referral link tu in pratica ottieni o un cliente o un agente o un tuo collaboratore è fantastico ecco vi do subito dei dati ieri sono stati creati ieri sera ieri sera nel tardo pomeriggio ho creato cinque referral link di persone che me l'hanno richieste ok sono in totale delle visite che hanno visitato questi referral link sono state 108 visite 108 persone hanno visitato questo questo evento grazie a questi referral link di queste 108 due persone si sono già registrate per l'evento di vicenza quindi vuol dire che c'è qualcuno di voi ok che ha già in pratica delle potenziali clienti o dei potenziali agenti fantastico questo per aver solo condiviso un link ok ecco cosa vuol dire sfruttare la tecnologia signori sfruttare queste macchine qua dove io adesso vi sto vi sto parlando e siamo noi che dobbiamo sfruttare questi tablet questi smartphone e non farci sfruttare da loro la cosa è differente queste macchine ci devono portare ok quattrini se siamo capaci a farli usare e questo è uno dei tanti sistemi quindi chi fosse interessato ad avere il referral link ok mi chiama mi manda un messaggio in privato e io gli do il referral link dell'evento ok poi stasera dalle ore 18 dalle ore 18 stasera le persone che si sono già registrate in crypto per tutti quindi sia come agenti che come soci sostenitori riceverete in pratica un email dove vi verrà scritto ok dove ci sarà scritto che il vostro la vostra la vostra entrata nel sistema è aperta quindi potete entrare ufficialmente nel sistema ok e lì entrerete dentro e inserirete in pratica tutti i vostri dati ok i documenti compilate bene in alla grafica ok quindi da stasera e dalle 18 anche questo è attivo mentre ricordo che il sito invece quello di crypto per tutti punto com ufficialmente pronto dal lunedì lunedì viene messo in pratica il sito pronto è tutto ok bene poi basta basta vi ho detto tante cose tante cose il bitcoin signori il bitcoin sta volando letteralmente in questo momento vediamo in diretta qua c'è una musichina tagliamo via la musichina 54.500 54.500 euro un bitcoin signori rispetto una settimana fa è aumentato del 7 per cento e rispetto un mese fa è aumentato del 31 per cento 31 per cento in un mese spettacolo spettacolo come sale può anche scendere però è importante essere pronti e preparati bene signori vi auguro una buona giornata un buon pomeriggio che la forza sia con voi ci vediamo stasera alle ore 21 20 21 adesso non mi ricordo più quando è ida vi metto il link sotto ok e ci sentiamo se uno vuole avere info per critto per tutti ok teniamoci teniamoci aggiornati ieri abbiamo sentito le notizie di gd le ultime notizie quindi ok sono più che confortanti ok quindi fantastico signori buon pomeriggio a tutti ripeto che la forza sia con voi ciao 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 a presto